Sì, l'arco, l'arco al buio, bravo, bravissimo, abbiamo fatto in tempo a calare le canne, l'ho mangiato subito, abbiamo fatto in tempo a filare le canne, ah la grande così, big game, l'arco è morto, Dio buono, non ci posso credere, va bene così, big game ragazzi, abbiamo slamato, va bene, complimenti dai, strike 3, andiamo, scolta, vado a venire in questo angolo dietro, sì sì, da un pochino in questo angolo qua, sei andando dietro? no no no, sto portandoti nell'angolo subito, bella mangiata, bellissima questa, chiamare a buttare via, vado, buttare via, segnalo a bordo, guarda, mi hanno asciutto, mi fa, ma non cadiamo, all'ina, solo che se cadiamo così, possiamo fare tutt'una, abbergati, con te, si, vedete a mangiare il segnalo a bordo, vedete i bracci divergenti ancora dentro, e le seguo ancora, ah dai, la lontà ce la metto, però adesso dai, c'è un po' di esperienze, mi fatica, e alla fine del mese cosa fai, non è anche giusto che prendi i soldi che prende l'altro, l'altro fa un mese, quello di qua, ha l'occhio rigoroso, un piazzo cattivo, lui che è il maestrì, ovviamente non le ha, quasi prima del fermo, prima di cominciare ad andare in mare. questo pesce si fa dare del vuoi, sono venuti, si, quella verifica lì, si è venuto a capire, mi hanno domandato, c'era anche il capo Chionco, Chionchio, quella ragazza con la barba, ha detto che guardavano, controllavano le pompe, del motore, quelli che non avevano mai fatto quella bicicletta lì, la menoramica fa, che non va, quindi vado per iniziare a prendermi e si può rinronare, che avevano幾' doverti sexpire, tanto ne comunque non ci lose, tanto ne vado per andare lì, ma si stanno iniziare la terra, vado per il Refn, grazie a tutto diametri! comell'unica nella imana inhead, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.